oggi preparo le sfinge un dolce tipico siciliano questi sono gli ingredienti 300 grammi di farina doppio zero 500 ml di acqua a temperatura ambiente 300 di patate lesse 10 grammi di lievito di birra fresco una presa di sale e un cucchiaino di zuccare e olio di arachide naturalmente per friggere mesceliamo la farina aggiungo l'acqua il lievito un po di zucchero e unisco le patate passate nel passatutto inizio a mescolare unisco una presa di sale coprire con una pellicola trasparente è trascorsa l'ora e iniziamo a friggere andiamo a friggere qui è stato unisco 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 Grazie a tutti.